Solo una figlia e una nipote. Secondo me la colpa lì ce l'ha tutta la famiglia. La madre doveva intervenire, perché noi non è che ci siamo stati zitti. Io non sono stata zitta di fronte alle notevoli assenze che lei faceva. La famiglia l'ha trascurata, dice questa insegnante di sostegno. Questa dichiarazione non è un dato processuale, lascia il tempo che trova. Noi facciamo presenza che ha dei problemi, magari continuando a venire a scuola sempre qualcosa imparava. Stava con le compagnie, si confidava. I dubbi non ne sono emersi sull'incapacità di Alessia Pifferi, la famiglia ha fatto di tutto per questa figlia. Ed è l'unico caso in 32 anni di insegnamento che sono andata dal preside per un adulto. Veramente, questa insegnante di sostegno sta puntando il dito particolarmente contro la famiglia di Alessia. Da una parte sicuramente una bimba di 18 mesi che ha perso la vita in un modo orribile, questo è assolutamente ingiustificabile e imperdonabile, ma dall'altra c'è una persona che rischia l'ergastolo. Allora, Alessandro Politi, vedo l'Avvocato Pontenani Collegata, buongiorno, grazie di essere qui. Vogliamo mandare un pezzettino di questo racconto dell'insegnante di sostegno di Alessia Pifferi. Questo insegnante di sostegno è stato un po' pesante, devo dire la verità, Avvocato, perché qui anche il studio, quando abbiamo mandato queste testimonianze, i nostri ospiti, i versionisti, Avvocati, eccetera, sono un po' indignati perché andava un po' contro la famiglia. E questo noi, dobbiamo dire la famiglia, non c'entra nulla con quello che ha fatto Alessia Pifferi. Però perché è importante così tanto questa testimonianza? Perché, per voi almeno, per la vostra difesa, perché siete state accusate, lei, un po' meno delle psicoliche ovviamente, Avvocato, però c'è finita dentro, oppure lei in questo calderone, siete state accusate che la perizia che le psicologhe del carcere hanno fatto per Alessia Pifferi fosse assolutamente falsa. Allora adesso mandiamone onda questo pezzettino, poi lei ovviamente mi dice la sua. E allora il preside, le ho raccontato il fatto che faceva molte assenze e che non portava i compiti fatti quando veniva a scuola, e l'ha chiamata il preside, Loriani. Era il primo anno a Loriani? Sì. E lei quindi era la sua insegnante di sostegno? Lì, ero io. E allora lei, e lui l'ha chiamata, l'ha chiamata, poi dopo il preside mi ha detto, e gli ho spiegato i motivi che lei mi ha esposto, e le devo dire che ha fatto una dichiarazione che ritira la figlia e la fa preparare lei. Allora la dinamica è stata che la madre è venuta da me e mi ha detto che, e parlava della sua bambina. Con affetto. Con affetto così, no? Per dire, la mia bambina, sì, proprio in un senso affettuoso però, secondo me non era affettuoso. Ok. Allora, e la figlia invece mi diceva che la utilizzava al giorno per fare i mestieri. Allora io, questo fatto mi ha dato fastidio, tipo come? Tu vieni da me e mi dici la mia bambina e poi la utilizzi per fare i mestieri. Allora lì è una donna. E quindi... E poi di che la mamma è arrivata e ha detto basta, la ritiro. La dichiarazione che lei ha fatto io non l'ho letta, però mi è stato riferito dal preside. Allora, avvocato, questa testimonianza voi siete riusciti ad ascoltarla, questa donna per un bel po', credo che vada per la vostra difesa, no? Nel processo legato a quello della Pifferi sulle perizie psichiatriche, su queste psicologhe del carcere. Quante sono in questo momento indagate? Quante professionisti? Quattro psicologhe, quattro. Scusate, le prime due e poi le altre ultimamente, no? Avevamo dato notizia. Allora, per voi perché è un po' così importante questa testimonianza? A parte che io la sto sentendo ovviamente grazie a voi, è importante perché questo dimostra che in realtà le psicologhe del carcere forse hanno agito solo, hanno sbagliato per eccesso di zelo, hanno lavorato troppo, come ha detto il dottor Pirfo. Questo dimostra che quando in realtà si parla a lungo con Alessia Pifferi e la si frequenta e si ha la possibilità di frequentarla, ci si rende conto che c'è qualcosa che non va. Che è quello un po' che poi alla fine hanno scritto nel diario clinico le psicologhe sin dalle prime volte in cui la vedevano. Motivo per cui la vedevano molto spesso. Perché poi qui si dimentica sempre che se la vedevano spesso la vedevano perché evidentemente ritenevano che fosse necessario. Perché insomma non è che a San Vittore ce ne siano molte in questo momento di mamme assassine. Quindi evidentemente ritenevano che fosse necessario capire come aiutare questa donna. Questa è la dimostrazione che un insegnante di sostegno che la frequentava vent'anni fa, nel 2000, perché lei ha messo a andare a scuola nel 2000, aveva già capito che c'era un problema serio. Esattamente come l'ha capito il prete di Ponte Lambro e come l'hanno capito, mi si perdoni, forse anche i genitori, perché altrimenti di una quindicenne non si parla di bambina. Nelle carte prodotte dalla difesa, quelle che io ho trovato grazie all'istituto Oriani, sia il padre che la madre la definiscono bambina. Ecco, allora, quando a 15 anni tu definisci tua figlia bambina, forse anche tu per primo ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Ne sono d'accordo con l'insegnante, se avesse continuato ad andare a scuola non ci troveremmo qui. È brutto da dire, ma è così. Beh, però questa è insomma un'accusa alla famiglia un po' pesante. Mi scusi avvocato, ma io da questa sua dichiarazione mi indistanzio totalmente. Allora, Alessandro Politi. Alessandro, dunque, da una parte il processo alla Pifferi, dall'altra parte l'avvocato Pontenanni segue e difende la Pifferi. Dall'altra parte è uscita, è emersa tutta questa indagine, in questo momento c'è l'accusa verso queste psicologhe. E si sta cercando, oltre questo assistente di sostegno, si stanno cercando anche i documenti per mostrare che in età scolastica questa ragazza o bambina, come la definivano, avesse dei seri problemi. Ora, Alessandro, lo sai, giornalista in gamba, è preparatissimo. L'apprendimento scolastico è poi molto diverso, cioè il percorso dell'apprendimento scolastico è molto diverso rispetto poi alla maturazione di un soggetto, di una persona. Ecco, che cosa sta succedendo? Raccontacelo tu, anche a livello processuale. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sicuramente questo documento, penso anche interessi molto l'avvocato Pontenanni, acquisisce valore, potrebbe acquisire valore sia per quanto riguarda il procedimento relativamente all'omicidio della piccola Diana, così come, appunto, come dicevi prima, in parallelo per l'inchiesta BIS che vede coinvolte l'avvocato Pontenanni e anche le quattro psicologhe indagate, sentite recentemente, che sono avvalse dalla fordina a rispondere. Chiaramente questo documento non è un documento che vale come un certificato, ma, come diceva anche l'avvocato Pontenanni, da una parte sì, sicuramente è molto pesante, non è un'accusa, ma sicuramente punta il tuo verso la famiglia, dall'altra parte però è un elemento che ritengo sia giornalisticamente rilevante, proprio perché stiamo parlando di una persona che rischia l'ergastolo. Quindi quello che ha fatto Alessia Pifferi, ormai l'abbiamo mille volte raccontato, è ingiustificabile, inqualificabile, però dall'altra parte bisogna anche sempre comunque cercare di arrivare alla verità, alla giusta pena, non a una giustizia sommaria, non ci deve essere il giudizio sommario che deve punire a prescindere. Quindi ricordiamolo, la perizia di Pirfo, quindi del consulente superparte, del periodo superparte, soprattutto dal tribunale, dice che Alessia fosse capace di intendere e di volere, ci sono poi degli elementi come questo, appunto, dei raddocenti di sostegno, così come il prete, così come anche altre testimonianze, che invece direbbero il contrario, quindi andrebbero in qualche modo a parlare di, a ipotizzare un qualche tipo di deficit. Allora, avvocato, dall'altra parte invece, voi ovviamente state cercando di difendervi, e mi pare più che giusto, dall'altra parte io però non riesco a capire perché oggi queste psicologhe, che sono psicologhe del carcere, sarebbero indagate, cioè alla psicologa del carcere fondamentalmente, che Alessia Pifferi prenda l'ergastolo o meno, che cosa interessa, se non per carità una verità, diciamo, di fatto legata alla propria professione e alla deontologia professionale. Ma perché si sarebbero dovute accanire per dimostrare a tutti i costi che Alessia Pifferi era incapace di intendere e di volere? Cioè perché oggi si trovano sotto indagine? Io questo non lo so, è una cosa che mi sono chiesta spesso, anche perché vedete, le psicologhe del carcere hanno, soprattutto una, la più grande, sia per età che per esperienza, lavorava, se non erro, da 30 anni a San Vittore. Provate a immaginare in 30 anni quanti personaggi eccellenti siano passati a San Vittore, per i quali magari poteva fare perizie diverse, magari anche con un ritorno, perché io penso sempre, se c'è un motivo per fare una cosa del genere, c'è da essere un ritorno economico, oppure a un parente, perché altrimenti non ne vedo il motivo. Non c'è motivo, assolutamente. Perché hanno collegato anche lei, avvocato. Non c'è nessun motivo per cui le psicologhe dovrebbero avere... Hanno collegato anche lei in questa indagine, ma lei queste psicologhe non le conosceva prima. Cioè non è che lei avesse un rapporto... No, io no, perché c'è un'unica... No, no, assolutamente. A parte che, vi assicuro, è veramente molto difficile parlare con le persone che lavorano all'interno di San Vittore. E tante volte noi avvocati dobbiamo fare dei numeri che neanche vi potete immaginare per avere la possibilità di parlare con qualcuno, perché tante volte è importante parlare con gli operatori che vedono i detenuti per aiutarsi. Vasi pensare ad esempio al CERT, quindi quando ci sono detenuti tossicodipendenti, noi abbiamo rapporti con gli assistenti sociali. Io non avevo rapporti, c'è un'unica intercettazione in cui una psicologa si complimenta per la perizia, per il fatto che mi fosse stata concessa la perizia, e io rispondo a me ma era dovuta la perizia. Aspetta, aspetta, un'unica intercettazione... Io sono una persona particolarmente simpatica, mi si consenta e quindi forse... No, non è vero, lei fa il suo lavoro. Quindi io avevo un rapporto colloquiale, io ho un rapporto colloquiale con tutti. Ma allora questa psicologa si era complimentata con lei in questa intercettazione, per che cosa esattamente? Abbiamo vinto. Per la perizia, perché la Corte d'Assise mi aveva concesso la perizia all'esito dell'istruttoria, e io rispondo a me ma era dovuta, perché per un reato del genere io la perizia l'avrei data immediatamente in fase preliminare. Ma ne danno per molto meno le perizie. Uno che fa una perizia vuol dire che poi passi con la perizia, è un protocollo normale, è una disposizione normale di chiedere la perizia, no? Soprattutto quando c'è un certo tipo di reato, sì. Sì, diciamo, è un accertamento ulteriore che viene fatto a scanso di ogni equivoco per approfondire effettivamente quella situazione. La collega probabilmente avrà fatto un colloquio, avrà fatto una telefonata in cui avrà detto sì, abbiamo ottenuto la perizia, insomma, non credo che ci sia un animale. Io ritengo però il punto che sia questo, sempre tutta la mia visualità alla collega, credo che lei ne uscirà ampiamente da questo tipo di indagini, ne uscirà bene. Il punto è, sulle psicologhe, la domanda tua Eleonora, loro sono indagate per falso ideologico, cioè loro partono, la procura è un'ipotesi quella accusatoria, non è una sentenza. Parte dal presupposto che quei test, quel test non doveva essere somministrato, che il risultato di quel test, trattandosi di falso ideologico, avrebbero accertato, questo, rivedo, secondo l'accusa, diciamo uno Stato che in realtà non era corrispondente al vero anche relazione proprio all'esito stesso. Sì, ma quale sarebbe l'obiettivo? Cioè la psicologa del carcere, fondamentalmente, cosa interessa? Questo è un ragionamento che fa il PM, probabilmente anche per una domanda legittima, essendosi anche un favoreggiamento, un aiuto consapevole e voluto a deludere le investigazioni, in qualche modo ad ottenere un risultato processuale. Io non credo che ci avrebbero avuto un ritorno da qualche punto di vista, se non professionale. Cioè un professionista può avere un ritorno da un processo, questo per rispondere alla tua domanda. Ripeto, con la collega ci conosciamo, il punto è, stiamo ragionando insieme, non c'è un ritorno economico, se questa è la tua domanda. Ci potrebbe essere un ritorno solo professionale. L'altro punto però è, in lato di testimonianza... Ma un ritorno professionale di che genere? La domanda che mi faccio... I nomi non sono noti. Ottenere. Lavorano nel carcere da anni e, come ho detto giustamente, hanno incontrato persone e c'è ben altro per farsi pubblicità. Probabilmente avranno rilevato, dato che io credo, come donna, come persona... Quattro psicologhe indagate, non sono poche, ragazzi, scusate. Vuol dire che ci sarebbe stato un accordo tra... Poi da cittadino della strada, Maria Rita, da cittadino della strada, io mi domando, una psicologa che si telefona all'avvocato per complimentarsi, è come dire, ce l'abbiamo fatta, hai ottenuto quello che era anche il nostro obiettivo. Poi io mi domando, questa bravissima psicologa che da 30 anni lavora, lì c'è un'equipe di quattro che sono intervenute sul caso. Allora io mi domando, ma hanno messo in moto un'armata qui per concentrare il problema? Mi permetti, mi permettete, non credo che ci sia una grande simpatia nei confronti di un'imputata di quel genere dove tu vedi che c'è una creatura che è morta agli stenti. Non è che questo è il soggetto più, capito, per il quale, detto fra noi, farsi pubblicità se la difendi, scusate. Io credo che... Esattamente. ...sia uscito fuori qualcosa di drammatico nel vedere. e questa sicuramente è una persona che è fuori, scusate, ma una persona che è in un processo di quel genere. Volete vedere com'è vestita? Com'è truccata? Come si presenta? Pensate un attimo a quale assenza di contatto col piano di realtà. Come non sta elaborando il lutto se non a modo suo, giustificandosi. È chiaro che è una persona che sta profondamente a disagio. Parliamone chiaro. C'è anche soltanto il movimento degli occhi, la postura corpo. Il corpo parla. Allora, cerchiamo di capire... Il corpo parla del rosario sul pezzo. Sì, capisci? In una situazione in cui il bambinello è stato lasciato morire di stenti, di fame e di paura. Ma dai, veramente ci troviamo di fronte a una malattia. Ma secondo lei... Professoressa, arrivo subito Alessandro, scusami. Secondo lei perché addirittura... Forse è una delle prime volte che io sento che una psicologa del carcere e più psicologa del carcere, un gruppo di persone, di professionisti, vengano indagate per far studio logico. Cioè, secondo lei che cosa può essere successo? Cioè, mi ha messo in mezzo pure la Pontenani che è in diretta con noi, che è un avvocato difensore. L'avvocato difensore cerca di fare tutto per difendere il proprio assistito, il proprio cliente. insomma, poi non stiamo parlando nemmeno di una cliente che ha una forza economica enorme, tale da pensare che ci siano stati passaggi di soldi, cose, presupporre che... È un caso molto mediatico, Eleonora. È molto mediatico. Sarà pure un caso mediatico, però... Sarà pure un caso mediatico. Allora, bisogna essere garantisti fino all'ultimo. La collega arriva a tutta la solidarietà e in questa situazione... La collega va solo rispettata e sta facendo una battaglia incredibile. Lo dico veramente, non si fa mai tra colleghi, ma le congratulazioni vanno per la forza, per la battaglia che sta facendo. Anche perché è in quel soggetto. Trattare però, e tu, professoressa, insomma, trattare... Un caso. No, un caso del genere, ripeto, dal punto di vista professionale, trattandolo, e parlo dal punto di vista del... Se no, sembra che il PM ha preso e ha... Ah, trattare due professionisti nel carcere, avrebbero, secondo l'accusa, al momento è un'accusa, non è che è una sentenza, avrebbero agito... Ma non sono psicologa di parte, questo sto cercando di dire. Ma si autoledono. Se le psicologhe diventano consulenti della difesa, è questo il passaggio che probabilmente è stato contestato. Alessandro... Nel trattare, ovviamente, il caso come consulente. Alessandro, la Pontenani vuole parlare... Che c'è? Ah, c'è la sorella. La sorella di Alessia Pifferi, collegata. Adesso arrivo subito dalla sorella. Ciao Viviana, buongiorno. L'avvocato Pontenani è sempre collegata. Alessandro, che cosa volevi dire? L'onorivo, volevo fare una domanda che penso sia centrale per chiudere un pochino il cerchio. Adesso l'avvocato Pontenani, una volta che ha ottenuto o ha ascoltato questa testimonianza, che ovviamente non è di parte pacifico che sia una testimonianza come quella del prete, che comunque non è... La testimonianza dell'insegnante di sostegno. Della docente di sostegno. Ora che l'avvocato Pontenani ha sentito questa testimonianza, cosa farà? C'è che darà un'integrazione sia nel procedimento ad Alessia Pifferi per il suo? Cosa ci dirà di fare una volta che ha sentito queste parole? Cioè la utilizzerà? Questo stai chiedendo? Alla Pontenani. Se questa testimonianza verrà utilizzata, questa esclusiva che fra l'altro l'hai realizzata, verrà utilizzata a fine processuali per la propria difesa. Avvocato? Allora, avvocato, facciamo una cosa. Avvocato, mi dia un minuto solo, mi risponde dopo la pubblicità. Solo la pubblicità. 30 secondi e noi ritorniamo qui. Vi aspettiamo. Allora, fra poco potremo parlare con Viviana Pifferi, la sorella di Alessia Pifferi che è collegata con noi. la state vedendo, fra poco arrivo da te Viviana, l'avvocato Pontenani deve andare via. Volevo che rispondesse alla domanda di Alessandro, il primo nostro inviato. Questa testimonianza, adesso la manderemo in onda, questa testimonianza di questa insegnante di sostegno dice che Alessia, quando era piccolina, aveva già grossi problemi e che la famiglia sapeva. Questo dice in sintesi. Allora, avvocato, lei ha sentito queste testimonianze da noi in diretta, verrà utilizzata a fini processuali? Allora, io ho già depositato tutta la documentazione e la Corte deciderà il 12 venerdì l'udienza di discussione, quindi l'udienza conclusiva. Io posso fare un'istanza ex 507, cioè chiedere che, visto che queste prove e queste testimonianze sono arrivate adesso a istruttoria chiusa, io posso chiedere alla Corte di sentire questi testimoni. Non credo che mi verrà accolta l'istanza, perché ormai il processo credo che sia finito. Beh, però il video... Si può poi puntare alla riapertura in appello. Ok, perché ogni tanto su anche il materiale televisivo viene utilizzato? Tanto esiste l'appello. Le inchieste giornalistiche? Assolutamente. Sì, sì, no, ma io chiederò tutto, perché a prescindere dalla testimonianza, anzi, per la quale io vi ringrazio e ringrazio il bravissimo Politi, però io ho già prodotto comunque delle carte. Sicuramente il PM si opporrà all'acquisizione nel fascicolo, ma poi comunque c'è un secondo grado in Italia per ora ancora. Ok. Allora, avvocato, la ringrazio. Grazie di essere intervenuta. Buon lavoro. Qualsiasi momento lei abbia bisogno di dire la sua. Lei sa che noi mettiamo a disposizione le nostre telecamere, la nostra diretta. Grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Viviana, dunque... Grazie, arrivederci. Vogliamo continuare a sentire un pezzettino veloce, ma tra i particolari dettagli che ha raccontato questo insegnante di sostegno, che sicuramente tu conosci, avrai capito chi è, che seguiva tua sorella quando era piccola, ha detto tutte le cose che, a parer mio, sono un po' troppo forti ed esagerate. perché non si è limitata a dire che seguiva Alessia e di cosa soffriva Alessia, ma continua a dare la colpa alla tua famiglia, a tua mamma, ovviamente. Sentite. Ma se lei venisse chiamata, per esempio, dalla difesa, e lei dicessero, lei che l'ha conosciuta in radio sviluppo, secondo lei è così? No, per me no. E com'è? Per me ha dei problemi, secondo il mio parere. Secondo la sua esperienza... Ha dei problemi. Quanti studenti problematici le ha avute in vita sua? Diversi, sì. Però su di lei, io voglio capire questo, cioè lei davanti al giudice, cosa direbbe? Secondo lei Alessia Pifferi era ed è, dal suo punto di vista, di esperienza, perfettamente capace di intendere e di volere? Per me completamente no. No. Quindi se dovessero condannarla all'ergastolo, lo ritrarebbe sbagliato? Io lo ritrarei sbagliato, perché secondo me la colpa lì c'era tutta la famiglia. Viviana mia, buongiorno. No, grazie di essere collegata. Buongiorno. Guarda, cioè, noi non ci conosciamo, quando dico Viviana mia, non ci conosciamo solo da video, no? Non abbiamo mai avuto... Fa niente. ...di parlare insieme. Ecco, però, ti dico Viviana mia, perché io quando sento queste cose, francamente, mi cavolo. Perché... Allora, io... Grazie. Dunque, questa insegnante di sostegno ha accusato la tua famiglia. Ora, capisco tutto. Io questa maestra di sostegno, lei dice che la conosco benissimo, non l'ho mai vista. Ah. Non ci ho mai parlato, non so mia mamma, ma io non l'ho mai vista. Poi io ti dico la stessa frase che ho detto quando è stato del prete, non so se ti ricordi settimana all'altra. Se c'erano tutti questi grandi problemi, così gravi, così... Ma per quale motivo non hanno chiamato in quel momento gli aiuti? Per quale motivo dopo 40 anni, dopo 30 anni, adesso c'era la famiglia che la sfruttava, lei era a casa, faceva le pulizie, dava una mano a mia mamma, io non ci trovo niente di così assurdo. Ho anche una mano a mia madre a fare le pulizie a pochi anni, per cui... Bravissima, io andavo a lavorare, lei aiutava mia mamma, io a 16 anni ero già a lavorare 8 ore al giorno, non ho nessun problema, non ho ammazzato nessuno, non riesco a capire, e lo ripeto da giovedì, a parte l'accusa, cioè proprio diretta, è colpa della famiglia, grazie, molto gentili, perché se io avessi saputo che mia nipote era in pericolo, perché mia sorella era una malata psichiatrica, gliel'avrei lasciata, vero? Ma io vorrei capire le frasi, le frasi io vorrei capire, e se veramente avevano questi dubbi, io so che maestre, ospedali, asili, hanno un sacco di autorità a segnalare dei problemi, perché non l'hanno fatto? C'è uno scollamento, c'è un profondo scollamento tra famiglia, scuola e sociale, ed è quello, in questo caso, prendiamo il positivo, se posso dire così, da un dramma simile, cerchiamo di capire che proprio questo scollamento cuenta con trapposizione tra famiglia e scuola, tra famiglia, scuola e realtà sanitarie del territorio, questo è lo scollamento che bisogna sanare, perché se ci fosse stato l'aiuto, il sostegno adeguato, la capacità di segnalare, di dialogare, non di contrapporsi, è colpa tua, è colpa mia, il giochino delle colpe evita le responsabilità e il cambiamento, non mi piace il giochino delle colpe, ci sono responsabilità che piano piano vanno attuate e bisogna collegarsi, scuola e famiglia, sono le prime due agenzie educative, devono essere collegate tra loro, non devono essere in conflitto. Perché secondo lei? Un'altra cosa importante, ha detto, se noi avessimo avuto la percezione che mia sorella aveva qualche problema, probabilmente sarebbero intervenuti già al momento della nascita della bambina. Ma quali strumenti hanno? No, ma dico la famiglia, sai, se io ho una fratella che riconosco che non ci arriva e mette al mondo una creatura, ce ne facciamo carico noi, è quello che sta dicendo la signora. Beh, Viviana però se ne era fatto carico anche perché non vorrei sbagliarmi, ma tu vi hai anche chiamato gli assistenti sociali, Viviana. Certo! Più di una volta. Io avevo telefonato, non perché c'era un problema psichiatrico o ci fosse stato qualche paura di questo genere, però semplicemente a lei mancavano le basi, a lei mancava il lavoro, mancava il marito e non c'erano magari soldi e io so che in Italia ci sono delle associazioni che aiutano. Quindi io avevo chiamato e avevo chiesto come si poteva fare ad avere questi aiuti. Mi è stato risposto che doveva farlo lei. Cosa devo fare di più? Cioè, ma una persona cosa deve fare? Una donna di 38 anni che ha vissuto fino al giorno prima come cavolo ha voluto perché lei ha vissuto come cavolo ha voluto è andata a vivere a Bergamo e tornata perché l'ha buttata fuori. Seneri è andata a vivere a Bergamo poi è ritornata ha fatto quello che ha voluto. Cosa dovevo fare? Strappagli la bambina così poi denunciavano me perché non c'era un motivo. Io questo vorrei capire è tanto facile parlare ma perché allora nessuno, io ripeto questa maestra di sostegno io non so neanche chi fosse quindi dove c'è stato detto a noi che lei aveva questi grossi problemi se non la voglia di non andare a scuola tant'è vero che lei non è più andata perché a scuola non andava bene e non aveva voglia perché ci sono bambini che non ce la fanno ma hanno voglia quindi si impegnano lei no. Lei no. Hanno dei segnali quei bambini e quindi se ci fosse scusate colgo l'occasione un'equipe antropo-psico-socio-pedagogica fissa, stabile che coglie i segnali che segnala la realtà del territorio questo sarebbe una maniera di evitare i drammi perché era colto prima e sarebbe stato curato accompagnato però questo non avviene. Secondo lei allora intanto volevo evidenziare una cosa Viviana il problema scolastico di apprendimento poi non c'entra assolutamente nulla non c'entra niente con quello che è successo bravissima 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 non c'entra niente quello che è successo è i limiti dell'orrido non c'entra con l'essere intelligenti con l'avere dieci a scuola con essere che ne so disgrafico non c'entra niente questa è una cosa a livello orrido lei ha lasciato sua figlia da sola quattro volte è una cosa che va oltre è quello che io continuo a ripetere continuo a parlare di lei dei suoi problemi i suoi problemi l'hanno portata a 38 anni vivendo una vita normale quindi questa era oltre oltre qualsiasi cosa poi possono dire che era una bambina difficile tutto niente giustifica quello che lei ha fatto niente e se colpa anche nostra se fosse colpa mia la bambina sarebbe qua con me non sarebbe al cimitero e sentirsi accusati continuamente sta diventando una cosa allucinante e in galera ci siamo noi io mia mamma lei è là viene truccata vestita mangia beve almeno un senso di colpa e ce lo vogliono far venire a noi no guarda io mi batterò sempre per esservi accanto in questa cosa perché non c'è cosa peggiore io vi ringrazio tantissimo tutti mamma mia scherzi ma tu lo sai guarda io da quando ho sentito questa testimonianza ma poi anche un insegnante un insegnante una maestra elementare ho fatto il percorso didattico per seguire i bambini ma vi assicuro che nell'insegnamento poi la prima cosa che si esprime non solo nei confronti dei bambini ma anche nei confronti dei familiari l'inclusione l'inclusione e abbracciare le famiglie non colpevolizzarle proprio in situ secondo me nello spirito di un educatore per cui queste parole perdonami io non le riconosco nemmeno nella deontologia professionale di un insegnante capito Viviana ma io mi prendo le risposte per quello che dico adesso ovviamente non conosco questa donna l'ha conosciuta guarda io Alessandro Politi Alessandro ha fatto la sua intesa io ti dico però perdonatemi ma ti posso raccontare guarda ti posso raccontare e lo dico sempre mio figlio ha fatto un percorso mio figlio ha fatto un percorso i dieci colloqui che bisogna fare neuropsichiatrici infantili ok ma neuropsichiatra infantile non significa che mia sorella avesse un certificato psichiatrico un'invalidità non è questo che sta venendo fuori si tratta di una cosa scolastica esatto senti Viviana una domanda una mia curiosità visto che l'ho fatta prima anche all'avvocato Pontenani che mi ha ovviamente dato la sua e l'avvocato che segue tua sorella che difende tua sorella secondo te perché sono finite sotto indagine quattro psicologhe del carcere cosa è successo secondo te lì dentro allora io in questa cosa non ti posso rispondere tecnicamente è proprio una cosa d'avvocati io dai persone ignorante perché io lo ammetto di essere ignorante penso che volessero proprio farla passare un po' per incapace anche se comunque queste cose non dovrebbero succedere perché c'è chi veramente ha dei problemi e ha bisogno d'aiuto c'è chi invece che interesse secondo te avrebbero avuto cioè che cosa c'è sotto che non cogliamo che non capiamo questo non te lo so dire questo non te lo so dire io ho sempre pensato che servisse ai fini del processo ma anche io mi sono chiesta più volte che cosa una può ottenere forse non lo so se andava bene se andava bene forse lavorativamente prendevano valore non lo so non posso giudicare non è una cosa che conosco però prendere valore per difendere però ti ripeto ma non c'è ma non c'è ma non c'è esatto non dice che c'è tutto paradossale valore dava una visibilità professionale difendere interessarsi di un caso del genere è la stessa ragione per cui un avvocato prende in mano una patata bollente perché sa sì ma è talmente bollente che non gliene viene cioè però mi domando a te che sei una professionista del settore perché in quattro cioè voglio dire basterà una persona ma non quattro psicologhe ecco perché ti dico che la mia impressione è che il caso clamoroso abbia convogliato sulla situazione tutta un'equipe di persone che si sono confattate per giustificare un determinato caso è un caso clamoroso che non è voglio dire quando esce un discorso di questo genere qualcosa che capito che esalta il lavoro delle psichiatri cioè è da un test comunque il cui risultato del test è stato ritenuto inesatto il test da Pirfo è stato ritenuto assolutamente superfluo o inappropriato ed è il perito del tribunale però continua a fare l'avvocato del diavolo scusatemi ma dimostrare un'incapacità di intendere di volere lo sappiamo che nei processi è una cosa complicatissima forse una tra le cose più complesse che ci sono è vero e questo ce lo dice la storia la storia processuale di tanti casi di cronaca che conosciamo non arrivano magari spesso volentieri ad un omicidio ma incapace di intendere di volere dunque Alessandro ecco da una parte questo è psicologo che è l'avvocato della difesa che ci ha finito di mezzo forse una delle prime volte che si sente una cosa del genere ecco dall'altra parte invece è una perizia che la dice chiarissima cioè Alessia Piferi era capacissima di intendere di volere ma nel momento in cui una perizia è così chiara no e si va verso l'ergastolo no perché secondo te invece da cronista che ti stai occupando hanno messo in mezzo le psicologhe del carcere una di loro lavora da 30 anni a San Vittore perché che cos'è che ci stiamo perdendo o che non sappiamo chiaramente questo è il lavoro che sta facendo il pubblico ministero e ovviamente non mi permetto di giudicare il suo operato o c'è qualche elemento ancora che non è emerso quindi ci sono magari delle testimonianze aggiuntive che di cui in qualche modo ha parlato il pubblico ministero in aula ha fatto ha fatto emergere ha fatto trasparire una qualche possibilità di ulteriori prove schiaccianti che dimostrerebbero questa situazione criminale volta a falsare la verità volta a falsare anche ciò che la Pifferi di fatto ha voluto far vedere insomma quindi in concomitanza in concorso a queste psicologhe quello che però ci tengo a sottolineare in questo momento in questo esatto momento relativamente anche all'intervista che ho raccolto con l'insegnante di sostegno è che motivo avrebbe l'insegnante di sostegno di puntare il dito contro la famiglia Viviana mi conosce bene abbiamo parlato più volte sa che io opero in scienza e coscienza con la massima attenzione la massima deontologia sempre e comunque quindi se la docente mi avesse risposto lei è una astuta calcolatrice furbissima si merita l'ergastolo noi quello avremmo trasmesso quindi non è che c'è un'induzione a fare sensazionalismo o ad alterare le carte in tavola no questo va sottolineato assolutamente perché Eleonora è importante dirlo quindi io chiedo anche a Viviana e sono mortificato ma è quando per far testimonare no 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 però non saresti mai diretta nella mia trasmissione guarda questo non era proprio il dubbio non intendo dire in malafede non intendo ci mancherebbe altro ma stiamo scherzando intendo dire anteponendo l'essere persone per bene che siamo e facciamo questo lavoro per l'amore della verità però Alessandro te lo dico adesso facciamo rispondere Viviana quello che chiedo quello che chiedo a Viviana è secondo e sono mortificato per quello che l'insegnante ha detto perché mentre lo diceva io soffrivo con loro era orribile era terrifica sapevo già e quando avrebbero sentito avrebbero sofferto non a caso infatti ho invitato abbiamo inviato l'avvocato di Viviana e Viviana stessa per ascoltarli in diretta per la prima volta per rispetto alla famiglia che è la prima cosa che va fatta ma la domanda che mi faccio e faccio a Viviana è che motivo avrebbe questa insegnante di accusare tua mamma lei non dice di conoscere non conosceva Viviana che motivo avrebbe Alessandro non voglio fare rispondere a Viviana perdonami ti rispondo io non facciamo rispondere a Viviana perché altrimenti Viviana la rimettiamo in imbarazzo perché tu capisci che una persona che dà la colpa alla famiglia dopo 30 anni 40 anni veramente ti rispondo io un insegnante che dà un insegnante di sostegno fra l'altro che dà la colpa alla famiglia è paradossale che lo faccia ma soprattutto è contro la sua deontologia professionale e ti spiego perché un insegnante che sta vicino a dei bambini e deve includere i familiari non può dare la colpa agli stessi familiari non può cioè è proprio nel suo essere insegnante nella forza che un educatore ha quando porta il suo lavoro la sua professione verso un bambino che non sta bene secondo lei non stava bene la deve portare anche nei confronti dei familiari da lì a sempre cioè da lì ai 10 anni 20 anni 30 anni fino a che si conclude la sua vita perché è nel desiderio di diventare insegnante che c'è l'essenza stessa stessa dell'educazione capito per cui chi fa una cosa del genere va assolutamente assolutamente va assolutamente lei può dire la bambina non stava bene Alessandro scusami ti interrompo fammi finire per cortesia grazie l'insegnante in sostegno può dire la bambina aveva problemi ma non puoi dire che la bambina ha problemi perché la famiglia l'ha abbandonata o perché è colpa della famiglia perché tu dov'eri dov'eri quando stavi seguendo quella bambina e perché non hai fatto nulla allora in quel momento Viviana rispondi tu ma ho cercato di non metterti il più possibile in imbarazzo no no è quello io penso quello che hai detto tu come lo pensavo anche del prete due settimane fa sono delle figure delle professioni non dei lavori come dici tu che hanno delle regole tu non sei lì per mettere ai 4 20 delle cose sei lì per aiutare e aiutare significa andare a suonare a telefonare a chiamare la famiglia a noi non è mai stato fatto quindi io vorrei capire come si può adesso dire una cosa del genere ripeto poi sono passati 40 anni lei ha passato 40 anni della sua vita tranquillamente in giro dove sono questi grossi problemi così esagerati da 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 essere colpa nostra quello che è successo colpa nostra ragazzi la frase è questa colpa nostra lei ha chiuso la porta con sua figlia dentro lei e allora se è colpa nostra è colpa anche loro che non l'hanno segnalata va bene Alessandro e qua chiudo ci tengo ci tengo a ribadirlo perché è importante sul prete sono d'accordo con Viviana effettivamente eravamo insieme in diretta quando lo dicevamo se ne esce oggi se era così evidente perché non ha fatto nulla quando ai tempi fosse così palese la tragedia questo l'abbiamo detto in diretta l'altra volta però l'insegnante che in questa intervista è la prima volta che faceva che parlava con qualcuno del caso ed era molto scossa era molto dolorata lei ha detto io mi sono esposta col preside per la prima volta in 32 anni dicendo preside bisogna chiamare la famiglia a intervenire perché questa ragazza ha dei problemi ha bisogno di aiuto e lei dice io l'ho fatto non l'avevo mai fatto l'ho fatto la risposta della famiglia al preside è stata noi ritiriamo la ragazza la bambina da scuola perché la formiamo noi quindi io non voglio dare ragione a nessuno colpa della maestra colpa del preside colpa di chi sia però la colpa è arrivata a noi che non è mai arrivato niente Alessandro il dolo la maestra ha detto al preside intanto a noi non è mai arrivato niente però la colpa sta arrivando a noi benissimo questa è la frase Alessandro il problema non è quello nessuno ha detto che questo insegnante non abbia fatto nulla il dolo non è nel dire che la bambina stesse male e che andasse aiutata il dolo è nel dare la colpa di quanto accaduto oggi alla famiglia capito cioè questo il vero quello è gravissimo quello è gravissimo quello è gravissimo assolutamente gravissimo ho detto è gravissimo stavo dicendo che il merito di questa insegnante è stato dire per la prima volta ho segnalato un problema dopodiché il suo merito finisce lì perché nel momento in cui dice la colpa è della famiglia è lo stesso che dire noi ci siamo tirati fuori e abbiamo lasciato la responsabilità alla famiglia e quello che succede è oggi la classica conseguenza ma è stata avvisata di ciò che è stato fatto no voglio dire l'insegnante di sostegno poteva dire c'erano dei problemi abbiamo fatto tutto il possibile per intervenire non sappiamo che cosa sia accaduto l'errore inizia lì dove l'insegnante dice la colpa è della famiglia e queste sono affermazioni pesantissime sono affermazioni pesantissime perché vanno a togliere poi il principio di responsabilità di cui non parliamo mai cioè questa non è una demente che non ha un principio di responsabilità potrà averlo accaduto ma non possiamo dire che oggi la società la responsabilità la nascondiamo sotto il tappeto delle perizie legali degli insegnanti di sostegno io ho insegnato tanti anni ragazzi che avevano problemi li abbiamo seguiti abbiamo cooptato le famiglie dopodiché abbiamo chiesto ai ragazzi nella misura del possibile di gestirli con la loro responsabilità ma qui c'è una gravissima irresponsabilità e con questo io non sto parlando di condanne di ergastoli perché dico che ogni persona va curata dal male al punto in cui si trova però voglio dire non facciamo neanche del buonismo una foglia di fico per dire che nascondiamo tutto sotto il tappeto il narcisismo maligno non si nasconde il narcisismo maligno è alla base di tutte in famiglia come nelle nazioni di tutti gli orrori del fatto che non c'è alcuna empatia nella condizione dell'altro tu non vivi vivi semplicemente centrato su di te e tutto quello che non fa e non porta avanti quello che tu vuoi e desideri tu lo fai fuori non lo tieni in considerazione non lo calcoli questo è il discorso Viviana ti ringrazio di essere intervenuta volevi grazie a voi dicendo qualcosa no io oramai guarda credimi non ce la faccio più a dire niente anche perché mi sembra assurdo che ci stiamo difendendo noi quando la persona colpevole fisicamente in quel momento è stata lei è stata lei perché l'ha anche studiata mi ha anche allontanato ha allontanato chiunque in quel momento avesse potuto accorgersi di quello che succedeva esatto grazie Viviana ti abbraccio forte grazie a voi anche a voi grazie mille ciao grazie al nostro Alessandro Politi ciao Alessandro adesso anzi rimani perché noi torniamo